Con l'accoglienza L'accoglienza delle squadre partecipanti ieri pomeriggio alla tendostruttura La Salle ha preso il via la diciassettesima edizione del torneo nazionale mini-basket Città di Torre del Greco, primo memorial Carlo Mazza promossa dal Comune in collaborazione con il CONI Un bel momento di condivisione e partecipazione all'insegna dello sport e sulle note dell'inno italiano Poi l'intervento di Davide Raucci, giocatore dello Scafati Basket Siete numerosissime, bellissime, tante ragazze che si stanno passando al gioco del basso Quindi sono passato per dirvi portarvi in bocca al lupo e di migliorare sempre la visione di poi avere i propri sogni Quindi buon torneo a tutti e in bocca al lupo Oggi alle 17 è previsto il raduno delle società sportive a Piazza Santa Croce per un momento di preghiera Seguirà il corteo in direzione dello Stadio Liguri dove in programma alle 18 il saluto delle autorità Verranno conferiti riconoscimenti ad eccellenze sportive torresi e alle società sportive intervenute Grazie a tutti